Salve a tutti ragazzi, oggi è una bella giornata, sono a Mondello e niente sto facendo una spazzolata Qua c'è il mio carrettino, diciamo questo è il primo ritrovamento che ho fatto, targhettina, forse di bo, forse di cinta Non lo so, insomma saluto a tutti i youtubers, Federico Cini, tutto il RS e di più a Sessolino Adesso una magliettina Guarda felino E niente, questo è spazzolato a Mondello, vediamo che cosa trovo Buona visione Questa è un lato che si è beppeciuto Grazie a tutti. 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 No. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.